Si parla di cinema, si parla d'amore, la domanda sorge spontanea, ma se l'amore fosse un film, quale sarebbe? Allora, se l'amore fosse un film, sceglierei, scusa ma ti chiamo amore. Secondo me Titanic, perché è un grande classico della sceneggiatura, cioè del cinema così, mi è piaciuto molto, mi ha toccato molto anche come storia. Se l'amore fosse un film, sarebbe un film che ho visto recentemente, che è Dieci Inverni, di Valerio Mieli. Sono praticamente dieci inverni in cui nel primo inverno i due protagonisti si conoscono e nell'ultimo riescono finalmente a stare insieme. Se l'amore fosse un film, sarebbe Titanic, perché è uno dei film che rappresenta di più l'amore, che provano due persone una per l'altra. Vai e vivrai Parla della storia di un bambino etiopico, viene allontanato dalla madre, perché lei lo allontana per salvarlo. Avatar Storia di un amore che vive a contatto con la natura. Se l'amore fosse un film, per me sarebbe Vai e vivrai, perché in questo film c'è l'amore di tutta la famiglia e di una ragazza verso un ragazzo di colore. Sarebbe il film che ho appena visto, Life Above All. Ci sono molti esempi di amore nella famiglia, che è il più importante, poi nell'amicizia, che non si dissolve mai, anche con gravi problemi. Grazie